Il tempo Il tempo è relativo. Ora, per esempio, mi trovo sul treno e per il viaggio di un'ora per arrivare alla stazione di Monte San Biagio, sembra debba passare chissà quanto tempo. Quando invece sei con una persona che per te è importante, il tempo prende il via, inizia a correre, come un matto, come un aereo rispetto ad una macchina. Viaggia alla velocità della luce, come un lampo che scarica a terra la sua impetuosità. E la malinconia? Quella invece quando arriva sembra anestetizzare il mondo, lo paralizza sotto il suo controllo e sembra non si possa svegliare più. Poi a completare l'opera c'è la musica, quella cosa di cui mi sono follemente innamorato, che ti prende l'anima, e te la trasforma. È bellissimo. Ci accompagna passo passo nei momenti della nostra vita ed è in grado di sconvolgertela. Ti tira su come nessuno, ad una velocità incredibile e con una dolcezza mai vista. Arriva fino in fondo, ti tocca, ti riconosce e ti porta in paradiso.